Va ora in onda al culto evangelico valdese. La predicazione di oggi è curata dai pastori Claudio Pasquet e Donato Mazzarella. Buon ascolto. Cari sorelle, cari fratelli in ascolto, buongiorno. Vogliamo ritrovarci alla presenza del nostro Signore, ricordandoci che il figlio dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto. Con la gioia che ci dà questo annuncio vogliamo ritrovarci davanti al Signore affinché ci aiuti a sentire la sua presenza in mezzo a noi. O Signore invochiamo il tuo aiuto, facci sentire la tua voce di Padre, il tuo sostegno fraterno in Cristo, la potenza del tuo Spirito in quest'ora e in questo tempo. Leggiamo dal Salmo 27 Il Signore è la mia luce e la mia salvezza, di chi temerò? Il Signore è il baluardo della mia vita, di chi avrò paura. Se un esercito si accampasse contro di me, il mio cuore non avrebbe paura. Se infuriasse la battaglia contro di me, anche allora sarei fiducioso. Una cosa ho chiesto al Signore e quella ricerco. Abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, perché Egli mi nasconderà nella sua tenda nei giorni di sventura. Mi custodirà nel luogo più segreto della sua dimora. Mi porterà in alto sopra una roccia. Offrirò nella sua dimora sacrifici con gioia. Canterò e salmeggerò al Signore. Ci raccogliamo in preghiera. Eccoci qui, Signore nostro, questa mattina, col bagaglio delle nostre esperienze, e tu lo sai, non sono tutte positive. Nel nostro cuore, insieme a tanti altri sentimenti, ci sono ansia, preoccupazioni, paure. Noi veniamo davanti a te perché tu sei venuto a noi non per spaventarci col tuo potere, ma per farci scoprire la tua bellezza e la tua bontà. Fa che la contemplazione della tua bellezza ci aiuti a guardare non alle nostre ansie e paure, ma ai tuoi doni, a cominciare dal privilegio di poterci riunire nella presenza tua e del Cristo, nostro Signore, benedetto in ogni tempo. Amen. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Leggiamo dal Vangelo di Matteo al capitolo 15 i versetti da 21 a 28. Gesù, partito di là, si ritirò nel territorio di Tiro e di Sidone, ed ecco una donna cananea di quei luoghi venne fuori e si mise a gridare, «Abbi pietà di me, Signore, figlio di Davide, mia figlia è gravemente tormentata da un demonio». Ma egli non le rispose parola, e i suoi discepoli si avvicinarono e lo pregavano dicendo «Manda la via perché ci grida dietro». Ma egli rispose «Io non sono stato mandato che alle pecore perdute della casa di Israele». Ella però venne e gli si prostrò davanti dicendo «Signore, aiutami». Gesù rispose «Non è bene prendere il pane dei figli per buttarlo ai cagnolini». Ma ella disse «Dici bene, Signore, eppure anche i cagnolini mangiano delle briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni». Allora Gesù le disse «Donna, grande è la tua fede, ti sia fatto come vuoi». E da quel momento sua figlia fu guarita. Fratelli e sorelle, in ascolto, in questo episodio colpisce davvero la durezza di Gesù, ma Gesù non è venuto forse per la salvezza di tutti quelli che credono. Che cosa si nasconde dietro questo atteggiamento perlomeno singolare? Si nasconde per la comunità per la quale scrive l'Evangelista Matteo, cioè la comunità dei giudei diventati cristiani, il problema del rapporto proprio tra giudei e pagani. Il tentativo cioè di conciliare da un lato il movimento missionario per il quale l'Evangelo è rivolto a tutti e dall'altra parte la coscienza del popolo di Israele di essere il popolo eletto, l'unico destinatario dell'opera del Messia. Questa coscienza di Israele ha indubbiamente un lato positivo perché serve a mantenere l'unione, la coesione del popolo anche in momenti difficili, però purtroppo anche il lato negativo è quello della chiusura nei confronti di tutti coloro che sono diversi, addirittura i pagani venivano definiti cani. Certo, non era un complimento. Cosa succede? Gesù si reca in queste due città, Tiro e Sidone, sono città pagane dal punto di vista di Israele, quindi si suppone che poteva passarci tranquillamente, sarà stato poco conosciuto, eppure neanche qui Gesù può rimanere nascosto. Una donna gli viene incontro, è una straniera rispetto ad Israele, cioè una che non ha diritti, una che supplica Gesù però, ecco c'è da notare, neanche per se stessa, ma per la figlia, per una persona che lei ama. Da che cosa è spinta questa donna? Non so, forse dalla disperazione, le aveva provate tutte e non era riuscita nel suo intento. E allora si rivolge a questo grande uomo di cui aveva sentito parlare, si rivolge a colui che gli israeliti chiamano Messia perché lo chiama figlio di Davide, è un titolo messianico. Può darsi che oltre alla disperazione in questa donna ci sia piuttosto fiducia e speranza che quest'uomo possa esaudire il suo desiderio. I discepoli vorrebbero scacciarla, ma questa donna insiste, insiste perché non lo fa per sé, ma lo fa per una persona che ama e quante cose farebbero i genitori per i propri figli. E dinanzi a questa donna Gesù dà una risposta che sorprende noi soprattutto. Gesù in pratica dice no e lo dice nel pieno rispetto della concezione giudaica. La donna non può accampare nessun diritto sull'opera del Messia. Cosa fa la donna? La donna non si stizzisce e non resta nemmeno delusa. Addirittura questa donna dà ragione a Gesù, si riconosce cagnolino e dice sì signore io sono un cagnolino, però imploro almeno le briciole, quelle me le puoi dare, no? Gli avanzi, gli avanzi me li puoi dare. E dinanzi a questo atteggiamento di fede Gesù dà la risposta che avrebbe voluto dare già dall'inizio, cioè Gesù dice sì e pronuncia la sua parola di salvezza e da lontano con la sua parola guarisce la figlia di questa donna. Ecco fratelli e sorelle questa è la novità. La concezione tradizionale è un po' come il vecchio otre di cui parla il Vangelo che viene finalmente infranto dal vino nuovo dell'Evangelo. Gli steccati sono abbattuti, le divisioni sono superate. Ciò che decide adesso non è più l'appartenenza ad una popolazione ma è la fede nel Signore Gesù. Questo allora ci porta a considerare e ad essere consapevoli della instabilità e provvisorietà di ogni impostazione umana. Qualunque cosa noi realizziamo oggi può andare bene, domani potrebbe non andare bene. Questa è un poco una tirata d'orecchia alla mentalità del cosiddetto si è sempre fatto così, che poi non è vero. Si è sempre fatto così quello che ti ricordi tu, tuo padre e tuo nonno, ma forse prima si faceva in modo diverso. Questo vuol dire anche riconoscimento dei propri limiti, riconoscimento della miseria umana e riconoscere che la nostra speranza può essere riposta solo in Dio, perché solo Dio può autenticamente salvare. Questa fede che rompe le barriere e rende commensali anche i cagnolini è il nuovo contrassegno di identità del popolo di Dio. Dove troviamo noi, fratelli e sorelle, la nostra identità? Pensando alle nostre chiese valdesi vi sono certo dei momenti salienti in cui maggiormente la nostra identità la sentiamo. Pensiamo per esempio la festa del 17 febbraio, pensiamo il sinodo, soprattutto il culto di apertura del sinodo. Quando abbiamo gli occhi di molti puntati su di noi, vengono anche le telecamere, la televisione, salvo poi dimenticarci per tutto il resto dell'anno, ma comunque in quei momenti sentiamo anche forte la nostra identità. Però facciamo attenzione perché è soprattutto la fede il segno della nostra autentica identità di cristiani, di evangelici e se lo siamo anche di valdesi. È la stessa fede che ha animato i primi cristiani, i nostri riformatori e le popolazioni da essi evangelizzate. È una fede che ha prodotto il coraggio della testimonianza anche a caro prezzo e in tempi difficili e bui. La parola di Dio ci ha ricordato che questa fede può essere professata da tutti, non è riservata solo ad alcuni. Certo, purtroppo l'annunzio dell'Evangelo oggi è poco ascoltato, talvolta è combattuto, la maggior parte delle volte è ignorato e questo ci può indurre a chiuderci nelle nostre comunità e occuparci soltanto dei nostri, cosa più facile e probabilmente più gratificante. Non dimentichiamo che ci sono tante persone che sono ancora alla ricerca di Dio in modo più o meno consapevole, anche dietro la scorza dell'ostilità e la scorza ben più spessa dell'indifferenza. E noi che abbiamo accolto l'Evangelo però ne dobbiamo essere i testimoni e gli annunziatori gioiosi, anche presso i lontani. Sappiamo cogliere dunque il soffio dello spirito e recuperiamo l'ardore missionario che ha contribuito a far giungere l'Evangelo fino a noi, nonostante le alterne vicende di questo mondo. Il Signore ci doni almeno un po' dell'entusiasmo e della fiducia dei nostri riformatori, ma ci doni anche l'umiltà di quella donna sirofenicia che più di duemila anni fa, in ginocchio dinanzi al Maestro, con una semplice confessione di fede, ha proclamato per la prima volta nella sua vita la novità dell'Evangelo. Ci doni il Signore questo entusiasmo, questa fiducia e questa umiltà affinché possiamo testimoniare la nostra fede con coraggio e letizia, ma anche con la consapevolezza che l'opera della salvezza con i Suoi tempi e i Suoi momenti appartiene solo a Dio. Amen. Siamo figli d'un solo riscatto d'amore, un medesimo fatto di fede, di sperme, di vincolo in crescere, un gloria, di riferenciare il Signore, signore, a Dio. A Dio. Tio. A Dio. XI. Piatra, Dio. A 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 Dio. Vi invito a raccoglierci in preghiera. Dio nostro ti preghiamo per tutti quelli e quelle che abbiamo incontrato sul nostro cammino e a cui abbiamo dato in qualche modo solidarietà, ma soprattutto ti preghiamo per quelli e quelle a cui non abbiamo voluto o saputo dare solidarietà. Ti preghiamo ugualmente per coloro che non abbiamo incontrato perché la distanza ce ne separa e ti preghiamo per coloro che non abbiamo incontrato, malgrado ci fossero vicini, perché le barriere umane ce lo impediscono. Vogliamo pregarti in modo particolare per tutti quanti sono ammalati, sofferenti, poveri, emigranti, per quanti sono colpiti dalle catastrofi naturali e per quanti vivono nell'incubo della guerra. Solo tu, Padre di tutta l'umanità, puoi vincere queste difficoltà, puoi aiutarci ad andare avanti e a farci sperare nel tuo regno benedetto che un giorno eliminerà ogni situazione di paura, di morte e di sofferenza. Nell'attesa noi ti imploriamo di rimanere vicino a noi e a tutta la nostra umanità. Ti chiediamo queste cose nel nome di Gesù che ci ha insegnato a dirti Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga al tuo regno, la tua volontà sia fatta in terra come è fatta nei cieli. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal male. Tuo è il regno, la potenza e la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Vogliamo ricevere la benedizione del Signore. Il Signore ci guidi con benevola mano attraverso i tempi difficili che viviamo, ma soprattutto ci guidi a sé. Il Signore ci benedica e ci protegga. Il Signore faccia risplendere il suo volto su di te e ti sia propizio. Il Signore rivolga verso di te il suo volto e ti dia la pace. Ora e sempre. Amen. Avete ascoltato il culto evangelico valdese. La predicazione di oggi è stata curata dai pastori Claudio Paschè e Donato Mazzarella.